Poche emozioni, nessun gol. Finisce 0-0 la sfida del Capozza tra Casarano e Gelbison. Occasione persa per i padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive nella giornata in cui pareggiano tutte le dirette concorrenti nelle posizioni che contano. Ma la vera notizia è che per la prima volta in questo campionato il Casarano non trova la via del gol. Emozioni forti invece. Prima del fischio d'inizio, con un mazzo di fiori sotto la foto di Roberta Bertacchi, la 26enne scomparsa tragicamente una settimana fa a Casarano. Gli applausi di tutti i presenti, poi la parola al campo. Nel primo tempo zero occasioni da segnalare la punizione della Gelbison calciata da Sicurella, De Pace di testa a mandalto, poi il calcio piazzato del Casarano con la deviazione di Perez non lontano dallo specchio. Squadra a riposo nella ripresa, il Casarano esce bene dagli spogliatoi, pedalino ha una chance in aria, conclusione, la difesa si rifugia in angolo. Dallo stesso corner, pallone nel mezzo di Gambino, sfiera che passa, poi Milan se la ritrova tra le braccia. Ci prova anche Citro, girata sulla quale Milan è attento, la Gelbison non punge praticamente mai, se non con questa soluzione di croce, debole, nessun problema per caro tenuto. La partita non regala altri sussulti, finisce 0-0, il Casarano resta a meno 7 dalla vetta, prossimo impegno in trasferta ad Andrea contro la Fidelis. Secondo pareggio consecutivo per la Gelbison, la vittoria manca da 7 turni di fila, l'occasione potrebbe arrivare domenica prossima contro l'Angri.